Dottor Muriana avete arrestato due persone, tra l'altro una ancora latitante, che spacciavano droga a minorenni. In un caso una madre per pagare i debiti del figlio si è addirittura deciso di prostituirsi. Sì, in questa indagine ha fatto luce, sono spaccato inquietante, nel senso che ragazzi giovanissimi che si sono accostati al mondo della droga hanno poi accumulato debiti con i loro spacciatori e non riuscendo più a fare fronte a queste situazioni si sono rivolti alle loro famiglie. Di fronte alle difficoltà dei ragazzi ci sono genitori che hanno acceso dei finanziamenti per pagare i loro debiti e c'è stato il caso limite di una madre che si è prostituita pur di guadagnare il denaro necessario. In altri casi alcuni genitori avevano addirittura aperto un finanziamento per saldare i debiti. Sì, dei veri e propri finanziamenti con delle rate piuttosto onerose, addirittura in un altro caso un ragazzo è riparato all'estero dove tuttora si trova perché ha paura a fare rientro in Italia. I due indagati sono tra l'altro degli insospettabili? Sì, insospettabili perché sono tutti e due incensurati, uno peraltro è un vigile del fuoco quindi questo la dice lunga su quanto sia trasversale il fenomeno della droga sia sul fronte del consumo che dello spaccio.